Musica Formula inedita per i giovedì più importanti dell'anno. Prima di portare tutta la squadra in ritiro a Concastecchulla, Bruno Bolchi questo pomeriggio ha optato per la doppia partita di un'ora ciascuna. Dapprima in campo la formazione titolare con la primavera giallorossa, quindi le seconde linee ad affrontare la Beretti. Tutto sotto un sole spaccapietre che però non ha minimamente avvilito l'umore e la gran voglia di fare della truppa. Il clima insomma è quello giusto e se un piccico di giustificata tensione si è peggio all'interno dello spogliatoio per il match con la Lucchiese, l'allenatore Salentino dimostra in questo caso come fiabile nella tecnica della dissimulazione. No, non abbiamo tensione, sinceramente siamo abbastanza rilassati per quanto lo si può essere in momenti come questi. Però direi che la nostra prerogativa è stata una costante per tutto l'anno di lavorare in tranquillità, in spensiera terzi, in allegria e così. Lo facciamo anche in questi momenti che sono indubbiamente molto più importanti che non qualche mese fa. La raccomandazione più importante per i suoi ragazzi? E di non avere premura di vincere, di rimanere calmi, di giocare la nostra partita come siamo capaci di fare e di aspettare il momento opportuno per colpire l'avversario. Grazie.